Successo per la scena di beneficenza organizzata dall'associazione 7 for you, nata per ricordare l'indimenticabile capitano del pistoia basket Matteo Bertolazzi, scomparso a soli 34 anni a causa della leucemia. L'iniziativa dalla quale hanno partecipato i soci, gli sportivi e la squadra della Georgia Tesis Group si è svolta al ristorante agric turistico Toscana Fair. Il ricavato andrà a favore dell'ospedale Sayacopo. Alla serata era presente anche Cristina, mamma di Matteo. E' la nostra serata, la nostra serata che va a chiudere quello che noi abbiamo fatto la scorsa stagione e tutto quello che è stato raccolto durante questa stagione lo doneremo all'ospedale di Pistoia, quindi lo doneremo all'ospedale della nostra città, una cosa che ci rende orgogliosi e che comunque rende orgogliosa credo un po' tutti quelli che hanno partecipato insieme a noi, i nostri volontari, la famiglia di Matteo, tutte le persone che ruotano intorno alla nostra associazione. Questo è il momento in cui noi facciamo la donazione relativa a tutto quello che abbiamo raccolto l'anno scorso, la faremo all'ospedale di Pistoia, la faremo quindi alla nostra città. Vedo che la gente ha risposto alla serata, naturalmente anche ciò che sarà ricavato da questa serata verrà dato in beneficenza.